Calvisano è stata una partita molto dura. Calvisano è una buona squadra, è arrivata in finale l'anno scorso e sapevamo che sarebbe dura, però abbiamo fatto bene, siamo stati un po' in difficoltà nella fase della MOL, il cui si è visto nel mercatore, ma abbiamo fatto il meglio e adesso a guardare per le prossime partite e a cercare punti. Abbiamo avuto una settimana interessante, abbiamo fatto bene negli allenamenti, nel reparto e anche nella fase di gioco. Ci stiamo attaccando al plano di gioco per questo sabato e a fare una buona partita là a San Donà e cercare di vincere questa partita che è molto importante. Ci aspettiamo una partita in cui non possiamo sbagliare, loro sono forti a approfittarsi dei nostri errori e sbagli, quindi dobbiamo cercare di fare una partita perfetta in quel senso e non dargli opportunità a loro per prendere le mete e i punti che ci possono costare dopo la partita.